Angelo Dagata, allora come è maturata oggi la sua scelta di annunciare la sua candidatura a sindaco di Etano? Ma la scelta di annunciarla in questo tempo nasce dalla volontà di voler partecipare ai cittadini le nostre idee, di voler partecipare le nostre proposte. Attardarsi in trattative che potevano anche e potrebbero anche diluncarsi fino alla data limite per la presentazione delle liste non ci è sembrato più opportuno. Allora il nostro movimento, Città Nostra, Movimento Civico per Adrano, ha pensato di ufficializzare la candidatura riconoscendola nella mia modestissima persona in modo da poter mettere in atto alcune iniziative che vorremmo condividere e che vorremmo vivere insieme ai cittadini di questa città. Ecco al momento la sua candidatura è sostenuta solo dal suo movimento nel comunicato che ha diffuso dice insomma dobbiamo superare le divisioni che ci sono all'interno dei partiti quindi ovviamente auspica che arrivi il sostegno di altre forze politiche soprattutto a chi si rivolge? Ma ci rivolgiamo a tutti in generale dicendo che la nostra è una proposta e la nostra è una candidatura che nasce ad Adrano, che nasce in un gruppo come Città Nostra che si autodetermina che non attende ordini, che non attende altro tipo di indicazioni. È rivolta agli adraniti affinché gli adraniti possano autodeterminarsi di autodeterminare e determinare il loro futuro. Quindi il nostro appello e la mia candidatura è rivolta a tutti quelli che ad Adrano vogliono operare, a tutti quelli che ad Adrano vogliono studiare, a quelli che ci vogliono abitare e a quelli che vogliono continuare ad amare questa città. A quelle forze politiche che non hanno ancora deciso vuole dire qualcosa in particolare? Ma questo è stato uno dei motivi per cui noi siamo andati avanti. Ancora c'è molta indecisione, questo è un fenomeno comprensibile perché i partiti sono poco presenti nei comuni, anche nel nostro comuni. Non ci sono più punti di riferimento. I punti di riferimento anche nel recente passato per le elezioni amministrative magari sono stati alcuni deputati che poi alla fine hanno cercato di aggregare alcune forze. Oggi anche l'azione di questi deputati mi sembra piuttosto debole. Allora gli adreniti un po' sono lasciati da soli ad autodeterminarsi e questo è un lavoro difficile.